In un paese lontano, dove i regni sono divisi a metà, navi pirata incantate vengono ricoperte di ghiaccio. Le città non si svegliano dal lungo sonno invernale. Lì, in un tempo lontano, viveva un ragazzo di nome Kai, figlio di un mago, trasformato in una statua di ghiaccio dalla regina delle nevi. Ti manderò in missione sulla Terra. Sarà un gioco da ragazzi, tornerò domani con il ragazzo! Non voglio perderti di nuovo! Gerda! Prendilo! Lasciami, togliti di dosso! Conosco questi posti come i buchi delle mie tasche. A momenti che... Divideremo la ragazza a metà. Oppia! Proviamo di nuovo. Dove hai spedito, Kai? Dalla regina delle nevi. La terra natale dei troll. Sono scomparsi tutti! Uno è ancora qui. Il più forte! Il più coraggioso! E il più carino. Davvero? E dov'è questo super troll? Che ci fai in questo posto desolato? Impiccate questa canaglia! Sono un bravo ragazzo! Lo chiedo a Gerda! Alla cacca! Codardo troll! Orm! Il mio nome! è Orm! Non vincerai, regina! Davvero? So cosa devo fare! Avrà bisogno di forza per sfidare la regina delle nevi. Le darò la mia renna! Vai, Ragnar! Più veloce del vento! Non posso continuare. Mi sento così sola. Tu non sei sola. Continua a ricordarti di noi. Non temere, amore mio. Noi saremo nel tuo cuore. Allora, chi siete? Tu è il cane. Signora, io non sono un cane. Bau. Pasto? Io! Continua. Sì! Io!